Un compagno di viaggio è negato durante i soccorsi e altri cinque dispersi in mare. È il racconto doloroso, l'ennesimo, fatto dai 246 migranti sbarcati a Catania sabato mattina. Viaggiavano a bordo di due gommoni, salvati nei giorni scorsi al largo della Libia. Gli investigatori, indagano la squadra mobile, la finanza e la guardia costiera, hanno raccolto le testimonianze dei migranti e hanno fermato tre giovani scafisti. Quello di sabato a Catania è il primo sbarco del 2016. La nave Dattilo ha trasportato i migranti e il corpo senza vita di un uomo ha negato durante i soccorsi.